Il controllo svolto nelle scuole superiori di Summona e Prato La Peligna eseguito unitamente al personale del nucleo carabinieri cinofili di Chieti e organizzato di concerto con la dirigenza scolastica si inserisce nell'ambito dei controlli che la compagnia carabiniere di Summona nell'ultimo periodo ha incrementato per la prevenzione e la repressione dello spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti nella Valle Peligna.